eccoci qua ragazzi salve salve sono con ignoto e siamo su baldurge3 e niente abbiamo fatto un po di cose oddio che cos'è la connessione scarsa perché ok si è stabilizzata connessione e che dire niente dobbiamo fare la festa abbiamo fatto quello che dobbiamo fare e parliamo non mi fa parlare ma sta a spazio che è un corrisposto adesso si va adesso si va adesso si va adesso si va magari scappare questo locale, un'armi alla nostra piazza, ecco perché ti ha ridetto tutto Scusa infatti non mi stavo trovando Ok andiamo subito lì 3,2,1 Via Potevamo anche riposarci Andare là perché secondo me partiva Ci vediamo lì capito Vedi tecnicamente Oh no C'è il cerchio di sangue E' come forse che la gente ci fa caso Oddio Vedo un punto esclamativo Sei sul cuore oscuro vai No no Sono sul cuore oscuro Quello è il fatto Purtroppo non è sul cuore oscuro Sei sul carna Ah è sul stadio Vai vai Ho paura ma io non puoi fare la storia con il stadio Vabbè vediamo che succede Tanta a voi donne Vi è piaciuta la storia con il stadio Non lo negate La storia con il stadio C'è un cappetto Che è un cuore oscuro Che cosa si tratta Sì C'è un cuore oscuro Sì Tutti i cuore oscuro Che ti ha detto? Ci vediamo stasera Però voglio dare cinematica Guarda chi c'è qua, vieni veloce Sto parlando con... Me lo dici adesso, sto parlando con cosa? Eh ma questa è... La loro, ci sono i genitori della bambina Con la druida Eh però se tu mi devi far... Non devi parlarci Aspetta, però devi farmi finire Intanto guarda cinematica qua per favore Tanto lo so che tu hai visto tutto Fregna quando vuoi Io mi sto divertendo Ok Dai prende il vino dai Oh Eh lo so Dai eh lo so Dai Andiamo al sotto Sesso signorina Sesso Non con te Solo sei chiaro Pfff Poi puoi immaginare? No No In ogni modo, non mi lascio guardarti Sono sicuro che hai qualcuno altra Che si muove Vedi 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 Ho sapevo io Dove 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 sta? Ah Sì sì Ci vado io Vedi che succede Madonna quanto saranno incanzati con lei Non vedo Aspetta Stanno parlando Non so che la vogliono ammazzare Aspetta Non so che la voglia Ho preguito molte volte Che Silvanus mi ritrovò a questo momento Sì Scusate Un cento volte E un cento più Sì Dicami Come è il vino? Il vino? Che hai No Si L'ha avvelenata Puttana No ha fatto bene purtroppo Andava a finire così Se tu ammazzi la bambina Era scontato Questa scena non l'ho mai vista io E beh ma secondo te Il caos effetto in questo gioco ci sta Se tu fai qualcosa Fai qualcosa Non l'ha uccisa L'ha paralizzata Allora Io qua faccio la persuazione No col cazzo Col cazzo Questo lo faremo Guarda Tagliatele la testa Guarda Allora Io ti dico Però io ti dico una cosa Nella loro più cattiva Dobbiamo fare queste cose Se tu invece Me le fai già adesso Nella prossima volta Che dobbiamo essere stronzo Così tu che stai parlando Quindi non io Quindi vai Eh Ahahahah Tutto convinto Si si io tutto Non tirate di nuovo Dai non sprechiamo Non me ne fotte Deve cambiare No per me è detto così Dai non lo farei mai 15 Ma che culo Vaffanculo Ero male che avevi la competenza Ma quella carisma meno uno è bruttissimo Devo sistemarla Assolutamente Carisma meno uno è bruttissimo Quello quattro Momenti Beh Posso rianimare qualcosa Guarda il marito Il marito è terrorizzato Ha il panico Sì infatti Sì infatti La seconda è Cattiva Semi cattiva Perché è vero Guarda la cosa È misericordia Sì Solo Pazitissima Non lascia che ti prendi Con lei Andiamo Per me Prima di cambiare la mia mente Era un problema Non c'era un problema Sì Ora ci parlo io Ora ci parlo io Sì Ora ci parlo io Non c'era un'altra Non c'era un'altra Non c'era un'altra Non c'era un'altra Però è bellissima Che se era paralizzata Che cosa succedeva Rimaneva ferma lì Per domani Sai che è variata C'è una frase da prete questa Che brutto infatti Che brutto infatti Non lo so Tra la prima e la terza E la terza Vedi tu In trust when I say I bear their burden along with my own Justice will be done The circle will see to that Cold comfort for them The comfort nonetheless Ok basta che non vieni con noi perchè non me le tiene eh Come è parlare che ancora vuoi rispondere Eh però Ah vuoi farti lui l'altra No no Stavo guardando chi c'è Chi era tutto qua Stavo guardando Stavo guardando Stavo guardando Vediamo come te la giochi Eh A me non succederà nulla Già lo so Guarda Non la sento A me non c'erano di C'era bella Tutti sembra essere in spiriti high Strang Non c'erano di Non c'erano di Non c'erano di Vuoi che ti dico cosa devi dirle o ti lascio Non lo so No penso ai profughi Perchè questa Mi ricordo un po' il tuo dialogo Vediamo se riesco a E poi ti ho aiutato io prima per attirare l'attenzione Ci sono C'era Cosa 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 che ha distratto da Shah ma ci sarà tempo per pensare dopo share una offera con me dovremmo aspettare un po' fino a che gli altri hanno riuscito bravo meglio non mi aspettare preferisco non mi sentire ce l'ho fatta vedo se riesco a parlare con loro perchè sono incazzati me ok a me non ho capito di non fare una cazzata e aspetta ma c'è questa qui ehi l'actrassa dovrebbe essere l'amica di quella lì aspetta vedete che succede si vedi che c'era quella lì che si somiglia ah ok vabbè non c'è si aspetta che erano quelle le due ubriache eccole qua le due Bex e Danis ma ne ricordo che erano mezzo ubriache sicuro ricordo ballare mi devo sedermi ma la ricordavo ok quando vuoi andiamo a dormire ah le scene in nudo tanto non ci saranno il primo tentativo la prima notte ho sentito cose ah vai vai a dormire ok dialogo privato ma tu cosa stai vedendo la mia perchè ah qui stai vedendo da mia ok ah con la tua quindi indipendente quindi quindi non la posso vedere in contemporanea beh si si lo voglio mi fermo e allora aspetta che voglio vedere la tua dopo ok così fece come abbiamo fatto la volta scorsa abbiamo fatto tutte e due anzi io ho avuto la sfiga che non ho avuto la possibilità stavolta abbiamo in due non mi sognerei mai di perdermi questo momento lol allora sopravvivenza vabbè dai ero cercavo di essere se mi ricordo qualcosa non fa a dire no prima no perché quello no lol eh sembra che tu veramente sai la città i never got to explore to my liking don't stop now not just as things are getting interesting lol ora facciamo questo però quel meno uno io spero di livellare perchè il carisma deve aumentare perchè veramente sono messo male quel carisma eh se con quel meno uno non è proprio buonissimo infatti fa meno uno mi fotte ho fatto dieci giusto giusto guarda che rischio guarda che rischio ok dopo se vuoi la zietta se non la uccidiamo lei alla fine dice di risparmiarla se tu la risparmi ti da una cosa che ti aumenta di uno e una caratteristica ma vedremo bisogna provare con quelle no con quella ma vedremo ma hai parlato poco di te e andiamo giù per il vino giù 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 glu 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 ottimo e andiamo perchè si perchè la prima notte è così bene ora c'è il aspetta dialogo privato ancora aspetta l'ho tolto no l'ho tolto io no no io no un altro momento non lo uccidere credo beh potrebbe ma prendiamo questo rischio grazie per la prima notte grazie anche mi ha 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 l'ho ha ha ma questo è curioso la puoi vedere no no ok non lo so vediamo un po io provo A prova, ok, ce l'ho stato fortunato Poi dopo queste caccine io mi sa che devo andare a prima di là con i miei Ok, ed è parte, sì sì sì, ma tanto questa era una registrazione Ci puoi fare, quando fai YouTube, gli attacchi due video Ah? Se rimane troppo corto il video lo puoi attaccare Sì sì sì, no, ma infatti Ok, era giusto per evitare un'altra scena che tanto non era nuda, era un bacio Però è meglio evitare, essendo che erano lesbiche No, non si vede niente, tanto No, lo so, però essendo lesbiche non so che cosa può pensare di YouTube Quindi eccolo qua, ora posso vedere il tuo Dai Ecco, si appena ammo seduti Ok Ah, questa è un'altra scena, si è proprio nell'accampamento 10 anni è un lungo tempo per essere sbagliato nelle scuole 10 anni senza un po' di scuole Un tocco Quando guardo a te, mi sento vero ancora Vivo Guardi, voglio riuscire a te per vedere stari Vai tu, io non lo fai Aspetta, aspetta Hai letto? Non me lo farò prendere due volte, chi l'aspetti Si, ma hai letto? Cosa mi ha detto lei? Mi sento reale, viva A farti vedere le stelle Credo che lei proprio non vede l'ora Questo poco mi assicuro E allora Eh beh, che sti cazzi Ti farei male ma col cavolo No, la terza, la terza, la terza È solo tua, guarda È un'opzione solo tua Eh, perché lei si fa i complessi Vedi che è tosta con lei Vino No Magari non posso toccarti Ma potrei dirti quello che mi piace farti La quattro è bellissima Oh, guarda come Mi piace l'idea Dai, fammi la faccia scandalizzata Fammi la faccia scandalizzata Come farsi pensieri malati ragazzi I pensieri malati Ok Che è successo? Ti è venuto duro senza neanche fare nulla? No, aspetta Sta Sta elaborando Ma qua non mi sto facendo vedere nulla È tutto fermo A me sta a vedere che stanno parlando loro Carla, che è nel mio orecchio Ah, adesso E quella è una promessa Guarda come tutto Hai capito cosa? Non lo sappiamo Non lo sappiamo Non lo sappiamo Non lo sappiamo Non si può muciammi Ma hai dato molto Che crede Oh, ok Con Carla Credo che è una trama Una narrazione molto particolare Ok, è andata C'è qualche cinematica? Vedo che siamo tutti fermi Esperienza a tutti Oddio, è arrivata questa bestia E' arrivata questa bestia E' arrivata questa bestia E' stato benvenuto E' magari qualche tempo Prima di aver affrontato un'altra notte C'è molto da fare E ho promesso che ti aiuterò C'è comunque che potrei Sono sicuro che una cura per te Può essere trovata a Moonrise Tower Ma è complicato Ah, il fatto del bambino È estremamente pericoloso Ma sembra che sei molto accostato A navigare in danger Credo che era troppo E spero che siamo tornati a curare Qui e ora A Moonrise Aspetta C'è più che hai bisogno di sapere E' arrivata a Moonrise Eh, ho capito Ci andiamo Ok, come fai? Sì, sicuro che debba Ok, come fai Tu sei un po' giusto, devi andare in Moonrise, ma ancora hai una scuola di come arrivare. Poi puoi andare all'interno, sull'autorità o sulle montagne. Più più facile, ma poi puoi andare in la cura di shadow. Poi puoi anche andare in sotto. C'è un tonnello in giocato di Saluna. L'autorità di Moonrise through the Underdark. L'autorità di un uomo chiamato Ketherick Thorme ha creato un segreto stronghold deep down there, prima di ralentare un'altra armata di giustiziasi. Shia ha ammigliato. Giustiziasi? Devo vedere per me stesso. L'Aridan e i loro cittadini stavano cercando un po' down there. Sono promessi ricchi, se li ritrovavano un'altra armata. Ma credo che c'è più. E' bello come il gioco cambia drasticamente per qualsiasi cosa. Cioè ragazzi questo ci fa capire come cazzo cambia tutto. Cioè la scena di prima quella della druida che l'abbiamo anche salvata per culo perché siamo buono. Però se non ci fosse stato che la bambina fosse morta, tutta sta scena non c'era quella scena lì. Quindi prego. Ora si pare questo. Ora si pare questo. Ormai ho capito che la prima risposta è sempre la predefinita. Cioè quella buona. La seconda, la terza sono quelle in me e la terza è sempre la peggiore. Che facciamo? Dai questa. Tanto le facciamo tutte le due. Qualcuno è preferibile per rischiare la scuola di scuola. Io vorrei chiederti al tuo camp. Se tu hai avuto la scuola di 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 scuola. E' sembra che i nostri fatti hanno alineato. Puoi Silvanus guidarci. E' sembra che la scuola di 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 scuola Ho paura Ok Non mi fa Ok 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 Vieni qui Più o meno Oh ma si preoccupa per te Oh Ne è valsa la pena Dai Dai E alle mie priorità Dai Quindi io so sicuro che quando Vi abbracere Quando la risolveremo il suo problema Secondo me ti fa un culo così di stupro Sei l'unica per me Credimi Contaci È bellissimo Fidati Hai presente quella risposta No no contaci No la prima La prima Oh che bello Ok Allora Intanto Ignoto ci lascia A poco Eccoci qua ragazzi Eccoci Sono con Ignoto E si continua Perché 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 lo carica subito il gioco Ma qua si tratta di caricamento Texture E il processore che è lento Questa è la regola Così funziona Perché se fosse stato il contrario Che ci mette più tempo a caricare il gioco Ma poi ti carica tutto insieme Quindi anche texture eccetera Vuol dire che L'ha rallentato il caricamento La processore La scheda video Però il processore è talmente potente Che ti carica tutto di botto Capito Sarebbe un po' l'opposto È un aspetto contrario Aspetta la tua partita Ah sta caricando No no sta caricando Aspetta Io ho solo detto che sta caricando tempo In senso che era ancora al menu Mo sta caricando per entrare nel gioco Ancora Avete mangiato l'uomo di Pasqua ragazzi? Io si Che hai mangiato? Che uomo? Oggi mi hanno regalato quello di Dragon Ball E ho trovato Goku Quindi sono contento Ah che bello Sì senza che sia stato pesato Vabbè ma tanto comunque Ho letto commenti di gente Che non è uscito Goku Si sono incazzati Perché hanno detto Ma come io avevo visto Che si pesava a toglie Ma in realtà Io ho visto Più che peso così Vanno a percentuali C'è tipo Goku E ne mettono di più nelle uova Poi vegeta un po' meno E l'altro ancora meno Quindi non è più il peso In base alla statistica No ma infatti Buonasera Mattia Buona Pasqua anche a te E ti ti facciano anche Buona Pasqua Ti auguri Mattia Oh Oggi c'è deluso Perché non c'è stato Presente pomeriggio Ah così non va bene Così non va bene Che colpa mia Che sono arrivato in ritardo No ma se io parlo con cuore oscuro Mi parla della romance Forse sì Forse no Vediamo un po' che cosa mi dirà Che mi dirà Che è stato Che è stato una sera Ah vedi Ci può stare Ci può stare La conversazione Vuole parlarti Quella notte Che ci siamo stati Ah Mattia è stato prolungato moltissimo Hai perso l'avventura di ignoto Quanto ti è durato Com'è andato Dai dai raccontaci Mattia Raccontaci della tua avventura A Pasqua Ah anche lui ha avuto l'esperienza Del pranzo Leggendario Allora hai mangiato tre primi Che ho otto Dodici secondi Antipasti del terro Vabbè bella la romanzo Tutti fanno la romanzo con lei Maschi, femmine Trolls, copris Tutti solo fanno la romanzo con cuore oscuro Quello che è ok Hai il fiatone che è ignoto Ignoto ti sento con fiatone Da madonna C'è un fiatone Sì No sei tranquillo Ma minchia Lo sentire da qua Mi spiace Ah non devo scovarci Ok Ok Credo dovremmo andare A ognuno Ok ma che brutta fa Ok possiamo anche andare Va bene Che cosa ha scritto Intanto Mattia C'era tutta la famiglia Praticamente E' tra 47 antipasti E 32 piatti Chiacchiere E poi apertura di uova Ci sta Ci sta Ok Deja vu No vabbè Sono stato l'unico a mangiare tranquillo Sì Ok Sono stato l'unico Sì Vabbè più o meno In realtà era Era abbondante Come si dice Poco ma abbondante Breve ma intenso Va bene Ma veniamo a noi C'è poi c'è Anna Allora Allora Noi dovremmo andare Vedi dove Noi dovremmo andare Allora Non accampamento Goblin Però Ci sono quelle due frecce Quei due cose Trovare l'asilio E E attraversare Il passo Ma l'asilo dopo Quella roba dopo Perché c'è il drago Io direi di andare Dalla zietta E della testa Ah Dalla strega Dici Assoltato Lì Sì Ma è vero Da un po' Che non ci siamo passati Allora andiamo Allora Ho sbagliato Ah Dimenticabile Ho sbagliato portale Eh Ho sbagliato portale Quella è cliccata Posso andare al villaggio In rovina Eh Dai Sennò metto quello A capo Niente Ah vabbè Abiduda Abiduda Io già mi avvio Intanto qui sotto Ah vuoi che posso parlare Con le pecore Con le pecore Vuoi parlarci Questa volta Ah vuoi parlarci Sì Così Così le ammazziamo Se poi appare Quella strega Allora Poi Dimenticavo Di bel caffè A tutti Dopo pranzo Per mai il caffè Si prende È fondamentale Assolutamente Così che io ne ho presi tre Ah comunque Ti ho detto Che inizio da fare Allenamento a casa Sì Me l'hai detto oggi Eh no Era giusto per ricordarmelo A volte Mi scordo Penso troppe cose Penso Ho bisogno di dirmi le cose D'altra voce Perché me le dimenti Sì a volte sì Faccio schifo Ah ma perché passa per il corpo C'è una cosa D'alto Di qua si passa Articolo che c'era Anche quella rana Io ho parlato Allora posso parlare Allora ma dopo che Tiro una ricompensa Con gli sconfiggi La strega Che cosa c'è una cesta qua Biglietti Attento che qua Sono le trappole Ok Eccola una sgamata Ecco perché si ne scopla Ho c'è proprio Eccola una sgamata Eccola una sgamata Andata Vabbè ma è normale È normale È normale Ok ok Qua ci sono le pecore Le pecore Dimmi quando posso parlare Con loro Che cosa Io adesso li fottono Ah beh Fa la testa Già Quindi parla Foglia E' inquietante Tavessi Distogli lo sguardo E allunga Pretentemente Mano Verso la pecora E se faccio Pu Ha 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 Posso lanciare una pecora contro le altre pecora Sì fra poco Però voglio vedere un attimo Ok Destratore d'animali Non è Però mi da come opzione Quindi gliela faccio fare Non ritirare No, no, era giusto per provarci Era giusto per provarci, infatti è stato un fallimè A parte che non lo posso più tirare I tizi nuovi qua I tizi che sono morti Allora poi, se vuoi puoi ammazzarla O faccio io l'attacco, com'era l'attacco? No, no, aspetta, mamma Tengo l'utendo premuto contro Fai l'attacco, prima voglio lanciare questa pepera qua Contro questa pepera qua Ok, però vorrei parlare anche con quest'altra Prima di... Vedete cosa mi dice, oltre a quella che non ha parlato Giusto per vedere se cambia qualcosa Tanto afferrala Arg, 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 beh Dai, spostati Ok No Mi è scappata Eh, io... Ti hai messo troppo Aspetta che se appena torna la rilancia La nonna... Mi sta in braccia troppo tempo Sa fare 20 caffè la nonna Tra yardare, lol Ma cazzo la sta pepera? No, non ti vuole, non ti vuole No, prima era qui E lì, prendi la butta alla di voi Vieni, vieni, vieni Eccola Pei corozzi Minchia Ne hai storpiati Ne hai storpiati Oddio, che è successo? Che è successo? È sparita tutta la mappa No, è ritorno... È diventata... La palude Guardalo, guarda Nuova cinematica Non ti è mai successo, eh? Sì, perché ho posto... Io non me l'ho successo Se passi tirio all'inizio Pena entri qua Assalto sui sensi Quindi mo' beccheremo anche quell'altro tizio che... Ah, ok Quindi mo' che entreremo... Ma non capisco perché sorpresi Sono io che ho tirato la coperta Eh, perché dovevamo colpirli, secondo me, facendo così Ah, salve Ma mi ha sorpreso perché si sono trasformati senza che ce ne siano affermati Eh, perché dobbiamo sgamarli, capito? 20 danni ha fatto Eh, sì Sono anche più del dovuto questi Rispetto agli altri Ma perché venite tutti qua? Eh, perché a quanto pare oggi... Eh, le hai buttate Cioè, perché salve? Oh, ma vedi per te Ok Aspetta Bravo Sì, anche se me lo dici bravo Tanto con la sfiga che... Ma io, vabbè Non posso prenderle Eh, per quello l'avevi tirato con la balestra io Ma infatti non ho ancora tirato la balestra Tira di con la balestra Eh, volevo colpire... Madonna Poco Vabbè, no, metà vita l'hai fatto Ah, vabbè Che poco però Che cosa ha fatto? Lacerazione Ma tutti qua stanno No, a Pasqua Prima, prima di Pasqua Ho lavorato, minchia Che intanto Cioè, ci ha sciottato Carla Eh, a quanto pare Eh, si brama di sangue Infatti Incazzalo nero E meno mai che doveva Quella che doveva Aiutarci a sopravvivere Lo scontro Tecnico Ok Calma Ho ingoiato la saliva No, a Pasqua Io ero avuto prima di Pasqua Qualche giorno prima Infatti ho avuto full A Pasqua invece ho bloccato Volevo riposare A parte perché Io ho bloccato Dotto proprio perché Il giorno Non so cosa fare Eeeh Secondo Non so se aiutare Carlac Se colpirli Se fare un attacco d'area Secondo me fai un attacco d'area Qualcuno lo butti giù secondo me Eh, vedo anche Carlac Con l'attacco d'area Muovermi in un posto Cos'è percorso Quello opportunito Ma solo quando Ti sei messa in una situazione Di merda da sola Adesso lo rovo Anche Che il bersaglio è bloccato Da cosa O' l'unico il gestito Mi impedisce di fare Nooo Veramente Nooo Eh, c'è spuglio invece E' proprio c'è spuglio Maledetto Vabbè prendi quell'altro Vedi l'hai preso lo stesso Sì Prendono me loro adesso Ria ti sei messa Poi ho comodo qui Eh Qui ti voglio bene Ma ti voglio Cerca di far venire cuore scuro Qua sopra Così puoi curare Carlac Eh, ci provano Allora senti qua Allora senti qua Fai i guardi generali Io non so Ok Sì Sì Sicuro in qualche modo Sennò va di nuovo giù Ehm Al prossimo Non ti attento Eh, io non posso curare Ma non riesci a sparargli da lì? Posso fare qualcos'altro Puoi evocare un amico? Sì Grazie Ah no, lì Ah, ok, perfetto Eh, dammi un po' di tempo Ma se volevo evoccarsi No, ma è ultimo Ehm Come si fa a lanciare la pozione A una persona? Non puoi Hai già evocato l'orco Vedi l'orso? Eh Comunque prova a prova Premix No, non me la faceva fare Perfetto E quel problema di Sanclay Che ci fa fallito A fare un sacco di danni Vedi Oddio L'ha piegata in due Sennò punti a capo Sì Vabbè, ma è l'orso in squadra Potresti fare qualcosa Non so se fare così Vediamo un po' di farcela, raga Non ci aspettavo di questi qua Ci fregavassero in questo modo E sono solo in quattro No, io non pensavo di fare il turno Quello Eh, come si dice Il turno impreparato Eh, perché lo dammo sgamare Capito? Lo dammo sgamare in qualche modo Ah, abbiamo fallito il tiro Niente Oh Eh, ma dai C'è critica qui Ok, adesso con me era quella cosa No, cos'è? La legione è radiosa Ma devi cercare di prenderci tutti Sì, beh, riesco a prendere Mettiti qua per farlo No, mi piglia, mi piglia Malissimo Infatti, mo faccio una cosa divertente Che quello ci è spogliati da fastidio Hai detto Beh, colpisci lui Minchia, mancata la grande Non me l'aspettavo Ah Perché l'orso non immagino? Perché non è attaccato con l'orso, David? Perché l'orso ancora mi fa attaccare Sì, prima potevi attaccare Hai fatto Sant'Antonio Come? No, no Hai fatto fine turno No, ma l'ha fatto fare proprio Sì, con cuore scuro Eh Hai fatto fine turno Invece dovevi cliccare sull'orso e attaccare con l'orso E perché? Eh, perché non l'hai fatto Vabbè, adesso No, 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 aspetta Non ho capito, aspetta Tu avevi cuore scuro e l'orso vicini, vero? Eh Anziché cliccare sull'orso e fare l'attacco con l'orso Con cuore scuro hai fatto terminatura Ma scusa, non dovevi uscire prima l'orso come... Esatto E non me l'ha fatto No, no, perché sono linkati Agiscono insieme Se tu passi il turno Passano il turno per tutte e due Non lo sapevo! Mo me lo... E me lo dici solo adesso! Quanto è che gioca sto gioco? No, e non sapevo che era linkato Era collegato Vedi, mo lo sto notando Vedi che guarda in alto Ma mo l'ho scoperto Ora l'ho scoperto Va bene Perché io pensavo che era linkato con me Vedi? Con l'orso ha collegato Lì quando camminate Ma tu devi guardare la barra in alto Ma io non sapevo che erano a attaccare Perché erano i due così intrecciati? Perché di titolo di iniziativa hanno fatto lo stesso numero Allora possono agire insieme E io non lo sapevo Vabbè, adesso cerchi di ammazzare almeno qualcuno Eh, buongiorno Come? E questa è tutta la vita questi qua Ammazza questo a nove punti vita Se riesce a colpire questo Tanta roba Vabbè Non avevo visto che ero intrecciati comunque Non l'avevo visto proprio Se me l'avessi fatto notare prima Non ci avevo fatto caso Perché mi aveva dato direttamente Scuore oscuro da usare Quindi quando l'ho usato ho detto salta il turno Perché passa l'orso Non avevo visto che sopra In realtà l'orso era intrecciato a lei Ti giuro Se lo facevo provocazione Capite? Attiravo l'attenzione Ma non avevo Ora bisogna colpirei tutti E io devo levarmi da qua in compagnia Non l'avendo ancora fatto velato Pensa Ricky pensa Bellissimo Ricky pensa 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 Ah ma lo sai che a volte Leggo gente che è un po' stronzetta Che fanno disinformazione Errata Anche su tiktoker Sì sì gente del ca Aveva scritto uno Ok Oddio dopo 24 anni Ho scoperto che picco c'è femmina No non è femmina Sai quanta gente ha scritto sotto Che sei una Che sono rincoglioniti Che C'è la femmina Aveva l'acqua da cuore E una aveva scritto pure Che più Ah lo spavamo morisse bruciato Madonna Oh e basta Ah tocca a Karlak Io ti curo il braccio duro Se tutto va bene Sì perché con tre di vita Ah ok Meglio Però ti ricuro di nuovo Però ti ricuro di nuovo Sanguinamento No Sì sanguinamento L'orso Perché Vedi Ma ha passato Prima l'orso ha passato Ora Vediamo come funziona Ok Oh li hai attirati tutti Sì è quello che volevo Ora Ora Ah vedi lo devo selezionare Ok Io che ne so Eh vabbè me l'ho scoperto Eh Ehm No Attacali con la spada Sti diotipi E volevo curarti Vabbè ok Ah Aspetta se io facessi No Fallo i fode Questo due punti vita Aspetta Io farei una cosa Di Sì è importante Ah per capito Bravo Mi piace Però pegherei anche A Karlak No non ti preoccupare Se non viene il cerchio azzurro Su Karlak Ok Andata Ok tu Vedi Vedi M'ho fatto termine a turno Me l'ha interrotto E ora posso fare lui Perché prima Non l'ho capito Dai sfiletta No questo Ah giusto Tocca a me Scusa Ehm Vediamo se riusciamo A fargli il critico E adesso vediamo Se fargli molto male E allora E allora Allora posso Bastemmiare Naramai Non si può attaccare Nessun Uno Era descato Ma questi No no Quanti critici Si stanno sparando Questi qua Eh perché questo È l'unico di sangue Vedi lui Ha il bonus Di Sicuramente Bello Così non mi può attaccare Perché sono invisibile Sono invisibolo E baciami l'uccello Ora Ora Carla che può ammazzare Questo bastardo Come si chi ha Questo coso Eh ha tanti punti vita Berretto rosso Ma questo è l'unico Con full vita Degli altri Infatti è quello Che ha più vita Ah berretto rosso È il capo Rispetto agli altri Ecco perché Vedi L'ha colpito Vedi l'altro berretto rosso Sanguinario Ma l'ha colpito Sì No Non l'ha colpito Eh Ho capito Non mi dice Se l'ho colpito No Non mi ha detto Neanche che l'ho mancato Boh Che strano Intanto questo ha 27 Quello ne ha 40 Quello comunque ne ha 45 Rispetto a questi qua Perché Ah no ma se l'ho colpito Mi ha mai colpito Vai Allora colpisco Io colpisco a questo Ma vai a attaccare Quello lato Quello lato Ma è meglio no Ti pare Vedi anche se è stato il turno Posso farlo Perché prima non me l'ha fatto Minchia Vaffanculo Minchia che godura Quando pulizione divina Sul colpo critico Purtroppo Tutti Oppure No Ha passato Vai Uccidilo Non ci arrivo Infatti Faccio critico Con questo Faccio critico Ci rendiamo Oh Oh È stata tosta eh Ma si Solo perché abbiamo fatto Quella round Da impreparati Beh Andiamo a parlare Con questo Prima vediamo Cosa c'è dentro Cosa ha detto Niente Però possiamo Fare una cosa bella Giusto per capire Con che Con come è morto Quando sappiamo come Pecore Vuoi scommettere Che c'era pecore Però mai dire male Chi sei tu Hai famiglia Chi se ne frega Cosa Cosa ti è Ecco Lui dice Che non era una pequa Questo ci avrebbe Sgammato Questo secondo me L'avremmo anticipato Lo sai Può essere Dobbiamo provarlo Che quanto azioni Che hai Ah Quanto azioni Che hai Sì Vero Hai trovato Tua sorella Ah è Demir Sì è quello che Ok Vorrei rispondere Coglione Vedi che Devo venire Ok Madonna Chi sei tu No Siamo in un bel mezzo Del nulla Perché Ecco Ma Per ma Per ma Mamma Mamma Ok Questa era simpatica Ok Basta Basta Ho capito Non mi serve più Beh Un'ultima domanda Che hai Come nel film Dungeons & Dragons L'hai visto Quando interrogano I non Sì Quella scena è bellissima Quattro Adesso Questa è una domanda Adesso Hai due domande Adesso Sì Ne fanno quattro E ne è rimasta un E lo lasciano vivo Sì è vero Però è stata divertente Questa non è una domanda Adesso Sì Oh Eh beh ma io non volevo parlare Comunque Però Bene Adesso dobbiamo trovare L'altro fratello Giusto L'altro fratello È qua ma non si vede il corpo Perché se lo sono mangiato Ah ok Uh eccolo qua Guarda Quindi mo l'abbiamo sbloccato Ufficialmente Sì Ora saliamo da dove Quello che cercava Cerca Starian Sì sì Vediamo Vediamo che cosa succede Vediamo se Ci parlo io Sì parlaci tu Questa volta Ti lascia Tu posizionati Anche dietro di lui Aspetta Prima di iniziare a parlare Aspetta Aspetta che vi c'è di parlare Che bella cicatrice che è però eh Non me lo ricordavo Ok Ok prima di rispondergli Mi metto qui dietro Vai Guarda Tu guarda Mi vedi Mi vedi dove sono No non si vede così Così? Ti sento Che stai muovendo Ma non ti vedo Ah ok Sarebbe stato divertente E non si vede Ok fai Fai quello che vuoi Di me lo ricordare Ah Cosa sia di più sbagliare, resti assolutamente che già lo conosce La sua sorta è scoperta tra noi da la prima scuola E il loro sapere è sbagliato solo con loro Sanno come chiedere e ci sbagliaranno questo sapere Se sei abbastanza pieno per pagare il loro prezzo Cosa sia più facile per perdere E il più difficile da fare senza Beh, effettivamente sta dicendo che il posto si è appena modificato Se lei possa dire come portarlo Poi pagare cosa chiede La verità è come una scuola, mio amore Possiamo armare la nostra cellula O solo così facilmente trovare la presa contro la nostra scuola Non ti metteria in danger Hmm Ahahah, com'è? Va bene Fai, fai 21, madonna Tu che cosa gli rispondi adesso? Adesso, ora sono curioso Guarda, guarda con le mani Dove si trova? Pronto a picchiare Che cosa succede se gli dici come raggiungere il campamento? Non lo voglio sapere E adesso? E adesso lo uccidiamo Lo fai tu? Io non voglio ammazzarlo No no, lo faccio, lo faccio Cioè, se ci attacco lo attacchiamo ovvio Però non sono il primo a fare gli amos Ah, e la prossima volta Quello era dei uomini pesce Stavolta parlo io Voglio, voglio ingannare No, no, quando ci arriveremo Che è successo? Posso mostrare chi è vero Se tu solo mi chiedi dove trovarelo Astarian ha un amico in te Ho sicuro che lo sappia All'inizio Ok No, credo che ti devi attaccarlo Che è successo? Perché parte del cinema? Ma ti devi prendere quella balestra tua Oh, e beh, si Voglio una balestra megafotonica Ok Ma c'è il doppio attacco Che cazzo fa? Oh, l'hai messa su quella sbagliata Il marchio del cazzo Dove va? Ah, cavolo Ma perché non riesco a colpirlo più di una volta? Ok, è il secondo attacco E' la madonna che salto che hai fatto, sorella Vai Ahahah, che cattiveria Oddio, che ci è successo? Oh no, è stato il giuramento Ma già che lei è paladina adesso Non doveva ucciderlo lei Eh, ma non ci hai pensato Oddio Viete, tu sei destinato a vedere lui Sì Cazzo che pirla è vero Oh, lei è un paladino adesso Guarda lo sguardo suo terrorizzato Guarda lo sguardo suo terrorizzato Ahahahahah Ah, che cosa bella Ok, allora Uh Beh, prenditi tutto Tutta roba che va bene a te Ah, beh, quello Mettiti da sua balestra subito Poi andiamo a riposare, va che tu hai È una chiacchierata da fare Abbiamo mille molette, tu Sìììì, a voi No Io ho 87 Ah, io 695 E siamo messi in ma lo stesso Eh, allora mi sa che dobbiamo tenere la cattiva Eh, allora mi sa che dobbiamo tenere la cattiva Per un po' però Ok, andiamo a riposarci I 709 No, non ci arriviamo Vabbè Ci andiamo a riposare Sì Così Eh, affrontiamo la strega La Lo massimo della nostra potenza Sì Eh, se no ma solo aveva pace la tieni, la tieni cattiva Per un po' però Sì sì Fino Fino a quando devi solo rifarla Sì sì Il livello ma Non è niente di che Ma poi quello non è un problema Allora andiamo a riposarci Allora voglio parlare con Conchì? Il cuore scuro deve parlare con Il guardiano Cavaliere Eccolo qui Vai Comunque è figo questo qua, eh Per mostrare il modo Il mio personaggio è là dietro Che la sta ignorando No, sta... Madonna, lullo Una giornata con nessun end Trovata solo Per il desiderato E il desiderato È un passaggio Che ho andato Sì 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 Tu Sì 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 La faccia sua è bellissima Come voglio dire La faccia sua è bellissima Come voglio dire Per valutare la vita E E Vanquare Quei Che Destruirla Dicami Perché Hai abbandonato La tua Un Sacrificio Beh non è vero Potevo Non farlo attaccare A lei però Ce lo siamo scordati Ahahahah Vabbè tanto Lei lo facciamo in pochi casi E affrontare Nemici Di un certo livello Sì No no ma in realtà va bene Anche cattiva così Eh Eh Sì Dopo lui spiega Lui spiega Lui parla Parla E tanto parla Ma io non capisco perché il mio volume di microfono è così basso Ok cosa gli dico Quello che vuoi è Vabbè sono pronta diventerò un apostata Per il momento perché tanto non possiamo Bello Che vuoi Come Come Il tuo obiettivo non è più vicino a te. La scelta è la tua solo. E' diventata un'apposciata. Apposciata così. Apposciata. Ah ecco, nuovo equipaggiamento accetta. Vabbè, ok. Perfetto. Possiamo andare a riposarci. Perchè non credo che dovremmo fare qualcos'altro. L'hai anche livellato? Perfetto. Dovevo solo accettare. Dai a dormire così fai quello che devi fare. Così partiamo direttamente. Allora, teoricamente io dovrei stoppare la registrazione. Però essendo che questa è la seconda parte, facciamo anche direttamente... Succede qualcosa. Sì, succederà qualcosa. E infatti c'è una cinematica a me. Sì. No, anche lì. Ah, il dialogo privato. Sì. Ma deve arrivare di nuovo la tizio. Non so, credo. Tizio o tizio. Sì, sì. 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 Ok. Ragazzi, noi la stoppiamo qua. Così continuiamo la storia con calma. D'accordo? Qui dal 28. Passo e chiudo. Bella raga. Sì.